PAPA L'AMERICANO PAPA L'AMERICANO PAPA L'AMERICANO adevarati, ahi stai facendo fattigli ii paccati da bani adevarati, am farta aici ma si ti non mi piace ii aiuti in buccia la mine ma stiu unde esti sa metti acuma in razbunare Dui ma la baia! Dui ma la baia coace! Bà fratello spero che v-a piaci questo video Se vuoi vedi farze di genere non uitavi a lasciare un like A voi abonati Se vuoi lasciare un share Asta e victima Voi zic adesso Hashtag razbunare Forza Voi aspettiamo per live In fiecare seara, in fiecare zi In fiecare live Am parut flashca M-a prins ma M-a rupt M-a rupt ce sa ai gata Da, va zic de acuma razbunare Sper sa intrecand mai doi sa bombardati la like-ul ala ca sa dau tare cu razbunare Razbunarea continuu!